Salve, sono Mariana di Mailshimp. In questo video vedremo come pianificare gli appuntamenti con Mailshimp per creare un servizio diretto. Con la pianificazione degli appuntamenti di Mailshimp puoi aggiungere strumenti di pianificazione al tuo sito web di modo che potrai iniziare ad accettare appuntamenti online. I tuoi clienti possono prenotare una riunione di persona online o al telefono a seconda del tipo di servizio che offri. Mailshimp offre due tipi di pianificazione, servizi individuali o di gruppo, entrambi prenotabili direttamente dal tuo sito web. E se desideri creare servizi multipli o un servizio di gruppo, puoi anche fare l'upgrade allo strumento di pianificazione avanzata. Oggi, voglio creare un servizio di consulenza diretta per la mia azienda. Pronti a vedere insieme come si fa? Cominciamo. Per creare un servizio, fai prima clic sull'icona del sito web e su Appuntamenti. Quindi fai clic su Aggiungi un servizio. Se non hai un sito web Mailshimp ti verrà chiesto di inserire il nome del sito e di selezionare un pubblico in modo da poterne creare uno apposta per te. Altrimenti passerai direttamente alla fase seguente per scegliere il servizio. Nella fase relativa ai dati sul servizio, puoi scegliere un servizio individuale in cui una persona può prenotare un appuntamento in una fascia oraria disponibile o puoi aggiornare e selezionare servizio di gruppo se voglio che più persone possano pianificare un servizio o un evento, come partecipare a un workshop sulle piante. E questa opzione è disponibile solo se acquisto il componente aggiuntivo di pianificazione avanzata che permette anche di togliere il logo Mailshimp dal sito. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità consulta le nostre guide e tutorial. Dovendo fare una consulenza individuale, selezionerò questo tipo di servizio e nella sezione seguente inserirò il nome e la descrizione del mio servizio. Quindi, sceglierò la durata e inserirò il mio prezzo. Inserirò anche il nome del pet per creare un urlo univoco per l'elenco dei servizi da condividere con i miei clienti. Sembra tutto a posto, quindi farò clic su Continua. E nel passaggio relativo alla sede, posso scegliere tra tre tipi di consulenza, ognuno dei quali con i propri requisiti. La consulenza di persona richiede un indirizzo aziendale. Per una consulenza virtuale, serve un link a un servizio riunioni come Zoom o Skype. Per la consulenza telefonica, posso chiamare il cliente o loro possono chiamare me. Per chiamare il cliente Mailshimp richiederà loro di inserire il loro numero di telefono nella pagina dell'annuncio. E se voglio che mi chiamino, inserirò il numero di telefono durante la configurazione del servizio. Sceglierò l'opzione chiamata telefonica e farò chiamare il cliente a questo numero. Poi passo alla fase successiva. Nel passaggio relativo alla disponibilità, posso attivare o disattivare i cursori per scegliere i giorni in cui accettare prenotazioni dai clienti. Quando faccio clic sull'icona di modifica, posso utilizzare i menu a discesa degli orari degli appuntamenti per impostare la mia disponibilità. Posso anche fare clic su Aggiungi fascia oraria per aggiungere disponibilità. E se voglio eliminare una fascia oraria, posso fare clic sull'icona del cestino. Bello. Ok. Ho quasi finito e nell'ultimo passaggio esaminerò tutto quanto per assicurarmi che tutti i miei dati siano corretti. Quindi farò clic su Pubblica servizio sul sito web. Fatto. Ora sei pronto a condividere la pagina dell'elenco dei servizi con i tuoi clienti e iniziare ad accettare appuntamenti. Per ulteriori informazioni su come pianificare gli appuntamenti, consulta le guide e i tutorial di MailChimp.